Da segnalare una bomba d'acqua ieri, vigilia di ferragosto a Grosseto in Toscana, 14 agosto 2018, per colpa infatti di una perturbazione piuttosto pesante che acqua in volto gran parte dell'Italia, le temperature sono, diciamo così, scese vorticosamente, un fresco anomalo, tra virgolette, quello che si sta registrando in questione di tempo e che ha causato, ripeto, in Toscana, o per meglio dire in Grosseto, questa strepitosa città italiana, una vera e propria bomba d'acqua, con pioggia torrenziale, problemi alla circolazione, una situazione, diciamo così, di pura emergenza che ha sconvolto proprio la città in questione. problemi che si sono registrati, anche per quanto riguarda un campeggio che addirittura si è, diciamo così, è stato riscontrato come allagato per colpa del forte maltempo che ha congestionato la zona in questione, in vera e varia in questione. Vi ringrazio per l'ascolto in primis, per la visione in secondis, iscrivetevi, commentate, un salutone e al prossimo video.